Oggi realizziamo insieme delle zucche decorative per Halloween. Iscriviti al mio canale e attiva la campanella per seguire i miei tutorial di cucito e perché essere principessa è uno stile di vita. Ciao sono Elena, sto preparando delle decorazioni per il mio stand ai mercatini. Riportare le varie parti del cartamodello sul pannolenci con una matita. Ritagliare le varie parti del cartamodello la forma della zucca due volte. Cucire o incollare occhi, naso e bocca. Grazie a tutti. Cucire insieme le due forme della zucca. Attaccare in alto una spilla da balia per poterla appendere. Scrivete nei commenti per ulteriori domande e se avete provato questo tutorial. Nel prossimo video vi mostro quali materiali uso per le mie creazioni. Iscriviti al mio canale se non lo hai già fatto. Seguimi anche su Instagram, Pinterest e Vero e visita il mio sito eleamoda.it perché l'eleganza è uno stile di vita.